Un incontro di persone, donne, uomini, studenti e professionisti che hanno voglia di restare, di tornare, di vivere al meglio nel luogo dove sono nate. L'hanno già battezzato Generazione Gela, un comitato socioculturale nato dall'esigenza di attivarsi per arginare il lento decadimento che sta attraversando la città. Al suo interno, giovani professionisti gelesi che vogliono provare a mettere le loro professionalità a disposizione della città. Generazione Gela è un comitato spontaneo di professionisti, studenti, tutta gente che ha voglia di ritornare a vivere la nostra città o che vive la nostra città e vuole qualcosa di più, vuole dare qualcosa di più. Quindi, come ti dicevo, siamo tutti professionisti, avvocati, ingegneri, imprenditori, diciamo più o meno giovani. Andiamo dai 20, 25 ai 30, 35 anni e tutti quanti, diciamo, il nostro obiettivo è dare e fare qualcosa di più per questa città. L'esordio del nuovo comitato è fissato per oggi pomeriggio alle 16 all'ex chiesa di San Giovanni. Nel corso dell'incontro partiranno i primi tavoli tematici per ridisegnare la città in profonda crisi e in cerca di soluzioni di rilancio. I temi sono quattro, i tavoli tematici, parleremo di turismo e cultura, parleremo di formazione e sociale, di sicurezza e di rigenerazione urbana. Tutte tematiche molto attuali che interessano la nostra città e che vogliamo appunto approfondire insieme ai cittadini per far nascere, far uscire fuori da questo evento delle idee, delle proposte concrete, appunto coinvolgendo tutti. Nessun riferimento politico ma la voglia di scommettersi per rilanciare Gela, secondo quello che dicono i ragazzi. Noi vogliamo essere cittadinanza attiva, partecipazione sociale, non abbiamo colori politici, l'impegno politico se qualcuno di noi vuole farlo al di fuori comunque per noi come gruppo è solo un valore aggiunto ma appunto noi abbiamo come obiettivo solamente quello di migliorare questo territorio che è un modo da consentire a chi è fuori di tornare e a chi è qui appunto di restare e vivere la città a pieno. Oggi il primo meeting aperto alla cittadinanza con delle tavole rotonde incentrate sulle tematiche della rigenerazione urbana, della sicurezza, della formazione sociale e della valorizzazione turistica dei beni archeologici. Gli obiettivi sono quelli di ricreare un senso comune, creare un dibattito su queste tematiche che comunque sono calde ed importanti per la città in maniera tale che ciascuno possa sentire un appartenenza un senso di appartenenza che sembra essersi perso ultimamente. Quindi intanto l'obiettivo è questo, creare un movimento, un dibattito in città che si è sopito negli ultimi anni, invitare la gente a far parte della città a partecipare nuovamente in maniera attiva alla cittadinanza. Uno dei punti di svolta potrebbe essere l'uso dei fondi del PNRR. All'incontro ci saranno esperti del settore e verranno affrontati i primi confronti con la città anche sulla scorta del PON Cultura 2021-2027 e dell'Agenda ONU 2030.